Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio SVG, TG La7, sugli schieramenti. Centro-destra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, noi moderati. Centro-sinistra allargato, PD 5 Stelle, Verdi Sinistra e più. Europa. Vediamo che alle elezioni politiche 2022 il centro-destra aveva il 43,8 e il centro-sinistra allargato il 40,9. La differenza tra centro-destra e centro-sinistra era più 2,9% per il centro-destra. Oggi, al 4 marzo, il centro-destra vale il 43,9, un più 0,1, mentre il centro-sinistra allargato vale il 42,8%. La differenza tra centro-destra e centro-sinistra è più 1,1% per il centro-destra. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video.